Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Mi scuso in anticipo se si dovesse sentire il rumore del ventilatore ma ne avevo davvero bisogno. Ho provato a registrare qualche video senza ventilatore vicino e penso possiate constatare, anche io posso constatare, che mi stavo sciogliendo davanti la telecamera, quindi spero possiate capirmi, compatirmi, fate quello che volete, basta che tengo il ventilatore qui. Tanto non penso nemmeno che si senta così tanto, però comunque sicuramente non avrei pubblicato il video se si fosse sentito solo il ventilatore, però avete capito. Oggi finalmente parliamo di Thor Love and Thunder, un film che attendevo non con hype ma con molta curiosità. Premetto che io Thor Ragnarok l'ho apprezzato, penso sia il miglior film di Thor pre-endgame. Nonostante tutto, nonostante sia effettivamente con qualche battuta da cine panettone, Thor Ragnarok non mi era dispiaciuto, anzi lo riguardo volentieri, e avevo curiosità per questo Thor Love and Thunder perché è stato detto da Taika Waititi, regista e questa volta sceneggiatore del film, che questo Thor Love and Thunder sarebbe stato il triplo di Ragnarok. E questo poteva essere sia una cosa negativa che una cosa positiva. Per quanto mi riguarda mi trovo un po' nella metà delle due, ma ne parliamo in questo video. Prima di iniziare però con la recensione vi invito come sempre a seguirmi su tutti i social, link in descrizione, Instagram, Twitter e TikTok, tutto in descrizione. Su Instagram sono ricominciati i post a primo impatto, infatti il primo post è stato su Thor Love and Thunder, una mini recensione veloce, che ha anticipato appunto questo video. Ma in descrizione vi informo che c'è anche il link di Pampling, il sito di t-shirt è Articoli Nerd, dove troverete la t-shirt a tema Hellfire Club, che indosso in questo video. Non è a tema Thor Love and Thunder, ma ancora per qualche giorno è disponibile quella a tema del film. Ottima qualità, costa solo 10 euro e fra qualche giorno non la troverete più, quindi se la volete affrettatevi. Il link è nella descrizione, come sempre vi ricordo che esiste il codice ilpensiero4 che vi darà la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel vostro carrello e queste calze vi costeranno 0 euro, perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. Affrettatevi perché in questo periodo ci sono gli sconti estivi che vanno dal 20 al 60% e sono sconti compatibili con il codice, quindi se siete intenzionati a visitare il sito questo è il momento giusto. Ma adesso iniziamo con la recensione che come sempre si dividerà in parte no spoiler e parte spoiler, ci sarà un avvertimento prima della parte spoiler, state tranquilli, quindi se non avete ancora visto il film. Potete guardare tutta la prima parte perché non farò spoiler, ma iniziamo. Vorrei parlare del film in ordine cronologico, quindi quello che succede, scena dopo scena ovviamente senza spoiler, non lo farò sicuramente scena dopo scena ma voglio rispettare una sorta di ordine, quindi iniziamo con l'intro di questo film. Non vi dico i protagonisti, non vi dico cosa succede ma una cosa è sicura, è una delle migliori scene di questo film. Ho apprezzato la presentazione di questo personaggio, quello che gli succede, l'introduzione all'ideologia di questo personaggio, anche se tutta questa scena viene interrotta da un altro personaggio con una CGI sinceramente orribile, non mi è piaciuta. E in generale il personaggio non mi ha fatto impazzire di come viene presentato, quello che fa, quello che dice, soprattutto con quello che dice e quello che fa partire. Però davvero quella scena che precede il personaggio è qualcosa di fantastico, la reputo una delle migliori scene di Thor Love and Thunder. Dopo l'introduzione al film si passa all'intro Marvel che come ormai è solito fare è diversa dagli altri prodotti, qui abbiamo sì l'intro con la stessa canzone che abbiamo in tutti gli altri film ma fatta in un modo diverso, non vi dico come ma mi è piaciuta molto. Si parte fin da subito con un racconto, non è uno spoiler perché succede nel trailer quindi ve lo posso dire tranquillamente e Korg inizia a raccontare le gesta alla vita di Thor. Tutto sommato ho apprezzato, è un po' esagerata ma tutto il film sarà esagerato, già lo pensavo fin dall'inizio quindi non sono stato stupito da questa cosa, sono stato stupito da altre cose ma ne parliamo dopo. E appunto Korg inizia a fare questo racconto, lo farà più volte nel film, alcune di queste volte sono molto esagerati questi racconti quindi non li ho apprezzati, soprattutto uno verso metà film non l'ho apprezzato più di tanto. Anche perché succedono cose in modo davvero strano per essere comunque in un mondo non così tanto comico. E ho pensato vabbè sta raccontando Korg magari usa la storia e la mette a modo suo quindi mette quel che vuole nel racconto e invece no perché successivamente nel film i personaggi stessi del racconto confermano quelle parti e non solo le parti normali, anche quelle molto strane. Voglio parlarvi fin da subito dei guardiani perché sostanzialmente hanno il ruolo che mi aspettavo in questo film quindi sono solo dal raccordo per Avengers Endgame, una sorta di continuity perché sarebbe sembrato strano vedere Thor da solo fin da subito senza vedere cosa è successo tra Endgame e questo film. E anche se non ho apprezzato così tanto qualche parte di qualche combattimento con i guardiani tutta la scena iniziale è accettabile, anzi mi ha fatto piacere rivedere i guardiani della galassia, non sono gli stessi guardiani di Gunn e si nota tantissimo. Tra l'altro quello che risulta meno normale è proprio Thor, nei guardiani della galassia quello che risulta meno normale è Thor e questa non è una cosa che ho apprezzato così tanto però comunque era prevedibile visto che il film è di Thor, lui deve risaltare su tutti. Non sono così tanto importanti nel film anche se c'è una frase che ritorna più volte ma in generale sono stato ripeto contento di rivederli, non vedo l'ora di vederli ancora una volta questo dicembre perché arriverà lo speciale su Disney Plus, 45 minuti di mini film di Natale sui guardiani della galassia, poi a maggio se non sbaglio uscirà il terzo capitolo e non vedo l'ora assolutamente anche perché sarà l'ultimo, voglio vedere cosa succederà al gruppo, ai personaggi in singolo però passiamo a Thor. Una cosa mi è sembrata sicura con questo film, Thor si sta andando avanti con la sua storia, sta progredendo in qualche senso, in qualche modo, però allo stesso tempo sta andando indietro. Mi sembra lo stesso Thor del primissimo film del 2010 solo che è ancora più stupido. A quel tempo era stupido ma perché non conosceva il mondo umano o in generale le usanze di altri popoli oltre a quello a Sgardiano. Questa volta invece sembra di nuovo quel Thor solo che è esagerato al mille per mille. È stato detto da molte persone riguardo questo film ma qua sembra davvero un personaggio molto molto stupido. Non è per tutto il tempo stupido, riesce a prendersi sul serio qualche volta, quelle volte che bisogna, a prendersi sul serio appunto. E questo l'ho apprezzato perché in Thor Ragnarok, al contrario di questo Thor Loven Thunder, c'erano scene che erano ricche di pathos, c'erano davvero delle scene che avrebbero dovuto far piangere i fan di Thor che però venivano smorzate da delle battute. Qui ci sono tantissime battute, tante battute di anche diversi tipi, ne parliamo dopo, però alcune scene fortunatamente non sono smorzate, non sono distrutte da quelle battutine. Ce ne sono tantissime che distruggono alcune scene ma quelle che avrei preferito rimanessero serie, più emozionanti, diciamo così, sono rimaste tali. Parlando velocemente dei personaggi, Korg è quello che sopporto meno, davvero. A parte qualche piccolo racconto, quello iniziale su Thor che ho apprezzato e quello finale, che non vi dico di cosa tratta, Korg è davvero la spalla comica, che è strano da dire perché in un film in cui tutti sono spalle comiche è impossibile far risaltare la vera spalla comica, infatti mi sta molto antipatico perché è più esagerato degli altri talvolta. E nella parte spoiler vorrei collegarmi con Korg ad un espediente che hanno usato nel film. Di Thor comunque ne ho già parlato, nel film è diversissimo, anche da Thor Ragnarok, ma pensando che tra Thor Ragnarok e Thor Love and Thunder ci siano stati sia Endgame, ma anche Infinity War, Infinity War è il miglior Thor che si sia mai visto sul grande schermo, mi fa strano. Perché sì, in Thor Ragnarok era abbastanza stupido, però in Infinity War era un altro personaggio. In Endgame è ritornato ad essere un po' più stupidotto, diciamo così, ma c'era tutto il fattore depressione, tutto quello che aveva passato, che lo rendeva già qualcosa di più serio, e siamo arrivati poi di nuovo a Thor Love and Thunder che lo rende il triplo. Stupido. Jane tutto sommato invece non è cambiata così tanto, ovviamente tralasciando il fatto che sia passata per il tunnel White Eater e che sia diventata Mighty Thor. La Jane Foster, la dottoressa Jane Foster, sembra la stessa per quel poco che l'abbiamo vista. Quando diventa Mighty Thor sembra un po' più sicura di sé sotto quel punto di vista dell'azione, ma il personaggio non mi è sembrato così tanto cambiato. Valkyria l'ho trovata abbastanza inutile in questo film, c'è solo perché deve starci, perché altrimenti sarebbe sembrato strano, perché è un comprimario di Thor, quindi non vederla nel quarto film sarebbe appunto sembrato strano, però non è che faccia così tanto, possiamo anche dire. In questo film poi ci viene presentato un nuovo personaggio, Zeus, che è interpretato da Russell Crowe, se era già visto nei diversi trailer, c'è tra l'altro nel secondo trailer mi pare sì, o nel primo, non ricordo, nel secondo trailer c'era la scena lì di denudamento di Chris Hemsworth da parte di Zeus con il flick, e nel film devo ammettere che l'ho trovata meno cringe. Se dovessi anticiparvi una cosa, probabilmente in questo video sentirete dire molte volte la parola cringe, a volte in accezioni positive, altre in negative, ma perlopiù sono negative, sinceramente. Zeus nel film gioca un ruolo molto molto importante, ne parleremo poi anche nella parte spoiler, e tutta la scena, tutte le sequenze in quello che pensavamo fosse l'Olimpo, non dico che mi abbiano fatto schifo perché quello no, però non mi hanno convinto così tanto, soprattutto alcune parti in cui c'è Thor che fa da Cicerone, in un certo qual modo. Ma passiamo a lui, il personaggio che mi è piaciuto di più da questo film, ovvero Gore, il villain. Non tanto perché sia questo grandissimo villain con una grande backstory, al contrario di come diceva Taika Waititi, il miglior villain del Marvel Cinematic Universe, ovviamente, devi pubblicizzare il tuo film, però no, non è il miglior villain del Marvel Cinematic Universe, anche solo l'avvoltoio di Spider-Man Homecoming lo reputo migliore, sotto alcuni punti di vista, però sicuramente è uno dei migliori in quanto carisma, perché Bale è stato fantastico. In generale, non ho visto il film in originale, quindi non saprei dirvi quanto effettivamente siano stati bravi gli attori, ma Bale, questo è sicuro, lui è stato davvero molto bravo, sia all'inizio, sia nella parte centrale di azione in generale, e anche nella fine. Ho apprezzato tantissimo il suo stile di combattimento, non è uno spoiler, ho apprezzato tantissimo le scene in quel posto desaturato, dove appunto ci sono diversi scontri tra Gore e il gruppo di personaggi, non dico altro, e la sua chiusura, che a molti è sembrata raffazzonata, tutto sommato mi è piaciuta, non solo per l'attore in sé, per quello che ha dato, ma anche per quello che questa chiusura potrebbe portare al personaggio di Thor. La mia paura più grande riguardo questo film, ma per lo più su questo personaggio, era il fatto di poter ritrovarmi davanti delle scene comiche, durante magari uno scontro veramente pericoloso per i personaggi, anche in un combattimento con Ela, per esempio, c'era qualche battutina che rovinava un po' il tutto. Fortunatamente, dico fortunatamente, con Gore non ci sono così tante battute che rovinano quei momenti. C'è qualche battutina, sì, che fa Thor durante magari un piccolo monologo di Gore, ma non rovina così tanto la scena, anzi, quella battutina nello specifico mi ha fatto sorridere, e poi parliamo anche della comicità perché ho alcune cose da dire. Comunque mi reputo abbastanza fortunato di non essermi trovato davanti a uno scontro davvero ricco di pathos e una battutina di Korg che dice, oh guarda, quello è senza capelli, per esempio. Davvero Korg, mi spiace ma non ti sopporto. Parliamo della comicità perché questo film, Thor Love and Thunder, ha rispettato davvero quello che aveva detto Taika Waititi, ovvero è il triplo di Thor Ragnarok, non tanto per quella comicità cinepanetonesca, anzi, qui la comicità è molto diversa. Si rifà molto a una comicità demenziale, una cosa che solitamente apprezzo, ma non in un film Marvel, sapete come non lo vedo così tanto un universo adatto a una comicità del genere, e infatti è la parte che ho apprezzato molto, molto di meno di questo Thor Love and Thunder. La comicità è il grande punto debole di questo film. Ci sono davvero delle scene che mi hanno fatto pensare, ma cosa sto guardando? Perché sta succedendo questo? Poi ne parliamo anche nella parte spoiler, citando proprio alcune scene che mi hanno fatto tenere il sorrisetto, ma quel sorrisetto di cringe, di disgusto anche a volte. Ed è una cosa che non avrei voluto provare con questo film, sinceramente. Sì, me lo sarei aspettato qualche scenetta così, molto esagerata sul livello di comicità demenziale, anzi no, in realtà demenziale fino a questo punto non me la sarei aspettata, e questo è quello che mi ha stupito di più. Però mi sarei aspettato di tenere per un po' quel sorrisetto imbarazzato, non per così tanto tempo, devo ammettere. Ma appunto poi ne parliamo nella parte spoiler. C'è qualche battutina che mi ha fatto effettivamente sorridere, anche qualcuna ridere, e sono quelle battute in quei momenti che abbandonano appunto il lato demenziale del film e si concentrano di più su una comicità, non dico intelligente, perché non ho notato così tanto una comicità studiata al massimo in questo film. Ci sono battute demenziali, tanto demenziali, battute meno demenziali, battute divertenti senza essere demenziali. Ma in generale la sensazione che ho avuto guardando questo film è di star guardando una versione di due ore dei cortometraggi che si trovano su Disney Plus con Daryl, che erano ovviamente delle cose non canoniche ed erano molto demenziali, se le guardate. Vi consiglio di guardarle perché quelle sono, non dico che facciano morire dalle risate, ma capendo appunto che non sono così tanto canoniche nel Marvel Cinematic Universe, c'è più sospensione dell'incredulità su qualche battutina molto, molto demenziale. È già una cosa diversa vedere queste stesse battute nel quarto capitolo di Thor, soprattutto questo capitolo, perché è stato detto anche da Taika Waititi, oltre al ridere, per qualcuno naturalmente, oltre al ridere ci sarebbe stato da piangere. E devo ammettere che ci sono andato vicino, non ho pianto, non ho avuto nemmeno gli occhi lucidi, però ho avuto quel senso di magone in qualche scena, compresa fin da subito la primissima scena di questo film, che appunto reputo una delle migliori di Thor Love and Thunder. Parlandone un po' più tecnicamente, la fotografia di questo film, quello che viene presentato tramite la fotografia, le scene, la costruzione di quelle scene, è qualcosa di stupendo. Questo è davvero un film di Taika Waititi, non un film di Gunn diretto da Waititi, quello che per molti in realtà è Thor Ragnarok. Ho amato tantissimo i colori di questo film, ma anche i non colori, soprattutto in qualche scena, le scene appunto desaturate che si vedono anche nei trailer. C'è qualche scena che si può davvero attaccare come quadretto, che rimarrà impressa nel futuro del Marvel Cinematic Universe, e questo mi fa assolutamente piacere, perché molte scene le ho trovate davvero uno spettacolo per gli occhi. L'estetica è sicuramente una delle cose migliori di Thor Love and Thunder, se non la migliore. E aiuta naturalmente anche la regia, perché comunque Taika Waititi è un bravo regista, sa fare assolutamente il suo lavoro, non è un mestirante come può esserlo magari un John Watts. Le scene d'azione soprattutto sono dirette molto bene, hanno una coreografia che ho apprezzato, non sono confusionari, non ci sono problemi di regia in generale, quindi scavalcamenti di campo, sono molto comprensibili. Fa ridere il fatto che abbiano usato l'espediente del sangue dorato, perché in America c'è questa regola per i film, per i prodotti, che se nel film non compare un grande quantitativo di sangue, sangue rosso, il film può entrare nella categoria PG-13, quindi possono vederlo tutti quelli che hanno 13 anni, o comunque quelli accompagnati dai genitori sotto i 13 anni. Però allo stesso tempo c'è una controregola, perché infatti se nello stesso film c'è un grande quantitativo di sangue, anzi il sangue può essere avvalanghe, può essere la scena di Shining, ma non è del colore del sangue reale, quel film può andare tranquillamente nella categoria PG-13. Fa abbastanza ridere, infatti in questo film hanno usato il sangue degli dei, che è dorato e non è rosso, e infatti c'è tanto sangue se dobbiamo vederlo come tale. Anche se questo film potrebbe sembrare uno dei minori della fase 4, secondo me è uno dei maggiori per quello che introduce nel Marvel Cinematic Universe. Ne parliamo poi ovviamente nella parte spoiler, ma ripeto, per me questo film è anche più importante per le cose introdotte di, non so, anche un Eternals. Ma ripeto, appunto ne parliamo nella parte spoiler, perché ho alcune cose da dire e non posso dirle adesso. La musica gioca un ruolo importantissimo in questo film, non tanto quanto in Guardiani della Galassia, dove la musica è quasi al centro di tutto, ma anche in questo Torloventander è abbastanza importante. Posizionata bene, nelle scene d'azione soprattutto, ci sono tantissimi gruppi, tantissimi cantanti dalla cultura pop, anni 80, anni 90, ma anche inizio 2000, e poi ci sono le canzoni della colonna sonora originali, che sono ad opera di Michael Giacchino, ed essendo Michael Giacchino uno dei miei compositori preferiti, non posso dire altro che wow. Mi sono soffermato anche ad ascoltare la musica che era presente durante i titoli di Coda e... ripeto, wow. Vorrei parlare del finale prima di passare al voto e un ultimo pensiero riguardo questo film, perché secondo me è stato molto inaspettato in certi punti, in altri un po' meno, ma per la maggior parte l'ho trovata davvero tanto inaspettata come conclusione, sia dei personaggi, ma anche proprio della storia di Thor, di... della conclusione del film, di quello a cui siamo arrivati e a cui arriveremo in futuro. È ovvio naturalmente che non ve ne parlerò in questa parte del video, perché parliamo del finale, è la cosa forse più spoiler dell'intero film, quindi ne riparleremo fra poco. Detto questo, sono molto molto indeciso se classificare questo come miglior film di Thor. Ragnarok probabilmente mi era piaciuto di più per il suo essere meno demenziale in confronto a questo, perché in generale io apprezzo la comicità demenziale quando ha senso di stare in quel contesto, e nel Marvel Cinematic Universe non lo vedo azzeccato, come... non la vedo azzeccata come tipologia di comicità, quindi non lo so. Però comunque, per la storia e per come viene presentata, eccetto la comicità, credo sia anche migliore di Thor Ragnarok. Quindi, non lo so, vedremo col tempo, magari con il rewatch, magari di entrambi, perché Thor Ragnarok è un po' che non lo vedo, quindi magari potrei anche aver cambiato idea. Ho detto un botto di volte magari, ma registro da un po' e sono le 23.13, quindi sì, sono un po' stanco. Magari il risponso finale su quale film di Thor sia migliore tra Ragnarok e Thor Love and Thunder ve lo farò sapere su Instagram, con i diversi rewatch, quindi andate a seguirmi anche lì. Vi ricordo che il link è in descrizione. Nell'equazione ovviamente tolgo il primo Thor del 2010, e Thor The Dark World del 2013, perché non li considero. Già so che non potrebbero entrare nemmeno nella classifica dei film migliori di Thor, preferisco Di Gran Lunga Ragnarok e appunto sono indeciso per Love and Thunder. Non è il miglior film Marvel, assolutamente. La comicità non l'ho apprezzata, ma la storia sì, tanto che comunque è abbastanza semplice, non è che ci sia questa grandissima storia, questa grandissima trama, siamo molto sulla base, diciamo, di un racconto, che comunque però ho apprezzato. Non è il miglior film Marvel, la comicità non mi è piaciuta, forse non è il miglior film di Thor, vedremo qui fra un po' di tempo, però mi ha divertito. Mi ha intrattenuto soprattutto, mi ha divertito qualche volta, è riuscito anche a strapparmi qualche risata, qualche sorriso, per lo più. C'è qualche battutina che effettivamente, pur non essendo chissà che grande battuta, mi ha fatto sorridere, per esempio, vi dico solamente frigorifero per chi ha visto il film. Lo so, è abbastanza stupida, però mi sono ritrovato a ridere come un idiota. E niente, prima di passare alla parte spoiler, come sempre do un voto al film che recensisco, ed il voto per Thor Love and Thunder è un 6,5 tendente al 7, quindi un 7 meno, ma facciamo che è un 7, dai. Aspettiamo magari un rewatch e vi farò sapere. O tra l'altro, prima di passare alla parte spoiler, mi stavo dimenticando di parlarvi delle post-credit, quindi vi dico velocemente che le ho apprezzate, una è più importante dell'altra. Solitamente nei prodotti Marvel ci sono sempre due post-credit, una è importante per il futuro del personaggio o della storyline, e l'altra è importante per la conclusione di una storia presente nel film, solitamente così, non sempre, naturalmente, e infatti anche in Thor Love and Thunder è stato così. La prima è quella che mi è piaciuta di più, la seconda è più probabilmente interessante sotto il punto di vista emozionale del film, ma non è che porti così tanto al futuro di Thor, in generale del Marvel Cinematic Universe, la parte cosmica, la parte, non vorrei dire religiosa, perché non è che centri così tanto con Thor e company, però quella parte appunto del Marvel Cinematic Universe. Ma passiamo appunto alla parte spoiler, quindi se ancora non avete visto Thor Love and Thunder, vi invito a uscire da questo video, perché gli spoiler iniziano tra 3, 2, come primissima cosa vorrei parlarvi della scena iniziale del film, ovvero Gore ci viene presentato intanto con la pelle di Christian Bale, questo non me lo sarei aspettato perché non leggo fumetti, non conosco la storia di Gore, non so se effettivamente anche nei fumetti è diventato dopo di quel colore, dopo essere entrato a contatto con la necrospada, però comunque parliamo del film, non... lasciamo i fumetti da parte. Ho apprezzato davvero tantissimo la scena con Gore che seppellisce la figlia e che per un momento riposa accanto al cadavere seppellito, questo è qualcosa che mi ha messo davvero in soggezione fin dall'inizio, quindi ero un po' stupito da questa partenza, mi sarei aspettato qualcosa di diverso andando avanti, qualcosa che sfortunatamente non ho trovato così tanto, ma c'è qualche ripresa di quel tipo di scena verso il finale. La motivazione di Gore per uccidere tutti gli dèi sarebbe pure comprensibile, se non fosse che effettivamente perché vorresti uccidere tutti gli dèi se in fin dei conti l'unico dio ad essere stato stronzo con te è quello che hai ucciso a inizio film. Ok, magari è la necrospada che gli controlla la mente, quindi vuole uccidere tutti perché è la necrospada che glielo dice, però, ripeto, potrebbe essere anche comprensibile come motivazione, ma non fino a questo punto. E naturalmente il personaggio di cui parlavo a inizio video, quello che distrugge la scena iniziale che sarebbe stata perfetta senza quella piccola comparse a quel dio che viene ucciso fin da subito con la necrospada e da cui esce appunto il sangue dorato fin dalla primissima scena. Passando poi a parlare dei racconti di Korg velocemente, l'unico racconto che davvero mi ha dato fastidio è quello della leggenda, almeno chiamata così, anche se è successa davvero qualche anno prima, la leggenda di Jane e Thor. Perché lì viene presentato tutto come un film commedia romantica, totalmente, solo che con il Mjolnir, con tutte le cose che succedono nell'universo Marvel normalmente, però, appunto, è qualcosa di molto diverso che non mi sarei aspettato fino a questo punto. E il fatto che la racconti Korg mi ha fatto pensare all'inizio che vabbè, ripeto, se la sta immaginando lui in questo modo. E invece poi qualche minuto dopo sia Thor che Jane confermano punti raccontati in quel racconto di Korg. Nel corso del film ci sono delle gag che ritornano spessissimo. Alcune di queste mi hanno dato molto fastidio, soprattutto nelle battute finali, e sto parlando naturalmente delle capre, le urla delle capre, ma anche del fattore Stormbreaker che si sente tradita. Perché a quanto pare qui Mjolnir e Stormbreaker sono dei personaggi effettivi, hanno una coscienza, probabilmente, e infatti abbiamo molte volte, anzi, tantissime volte delle scene in cui Stormbreaker guarda, tra virgolette, Thor dopo che lui fa fantasie su Mjolnir. E sono delle scene che mi hanno un po' spiazzato, ma anche nell'accezione brutta dello spiazzamento. Scusate il veloce cambio di inquadratura perché si è scaricata la batteria della camera e ho dovuto cambiarla. Volevo parlarvi di Korg e dell'espediente che hanno usato più di una volta in questo film, ovvero, durante la scena Onnipotent City Korg muore, almeno così ci vogliono far credere, invece poi rimane la faccia, con questa scusa che in realtà la sua razza rimane in vita finché rimane in vita la bocca, che fa riferimento al fatto che lui parli tanto a... Comunque, non dico che avrei preferito morisse, anzi, in realtà lo dico, però comunque non vedo così tanto inutile questa finta morte, perché comunque questo serve a far arrabbiare Thor così tanto da prendere, attirare a sé la Thunderbolt, in realtà si chiama Thunderbolt di Zeus e scagliarla sul petto a quest'ultimo, che comunque non muore perché lo vediamo nella post-credit ancora vivo, perché in fin dei conti quell'arma non uccide gli dèi, non è appunto la necro spada. La finta morte di Korg serve, almeno all'inizio però, è un espediente che viene usato anche verso quasi la fine del film, durante la scena in bianco e nero, desaturata, con Valkyria. È, secondo me, abbastanza inutile che venga usata la seconda volta per il personaggio dopo, la seconda volta per un altro personaggio dopo poco tempo. Anche perché in generale Valkyria, ripeto, è stata abbastanza inutile in questo film, non è che abbia fatto così tanto, e vederla per un attimo in difficoltà, persino quasi morta e poi, no, niente, tutto a posto, come un po' Tobey Maguire in No Way Home, ecco, non è che mi abbia fatto impazzire. Ho già detto di aver apprezzato Mighty Thor, anche se non ho apprezzato così tanto il modo in cui le hanno fatto prendere Mjolnir, ovvero la scusa che hanno usato durante in realtà quel racconto di Korg sulla leggenda di Jane Thor, appunto, con Thor, che parla a Mjolnir come un amico dicendogli devi proteggere sempre Jane e quindi ora che lei ha il cancro, perché sì, nel film hanno trasposto il fatto che lei ha bel cancro al quarto stadio, tra l'altro, tra l'altro, quindi sta per morire, e per quel poco il Mjolnir comunque la tiene in vita. Anche se allo stesso tempo la porta alla morte, un po' come nei fumetti, perché non leggo, non ho mai letto Mighty Thor, la potente Thor, non ho mai letto nulla, ma so come va la storia, quindi so che nel fumetto il martello Mjolnir va in mano a Jane perché Thor non è più degno, ma lei allo stesso tempo ha il cancro e la potenza di Mjolnir porta sempre più vicino alla morte di Jane. Tanto che sia nei fumetti, ma anche nel film, Jane alla fine muore. Dicevo prima che questo film potrebbe sembrare poco importante, ma in realtà non è così, visto che viene introdotto il concetto di eternità, anzi viene introdotto proprio il personaggio eternità. Ed è anche abbastanza importante ai fini della trama, visto che alla fine è lui che porta alla conclusione di tutto. Per mano di Gore, naturalmente, che esprime il desiderio, ma comunque anche questo personaggio gioca un ruolo importante. Devo ammettere che non mi sarei mai aspettato una comparsa del genere, mentre invece mi sarei aspettato comparse come gli attori che in realtà erano già stati confermati, gli attori che interpretano Loki, Thor, Odino e Ela questa volta. Abbiamo appunto nel cast di attori interpretati naturalmente da nostri attori Sam Neill, Matt Damon e la McCarthy che interpreta Ela. Mentre Zeus mi è piaciuto, penso in realtà che Russell Crowe stesse interpretando se stesso, sto scherzando naturalmente, una cosa che non mi è piaciuta è la scena in cui Thor fa da Cicerone appunto agli amici dicendo ah ecco il dio del tavolino, il dio del raviolo e fanno vedere questo personaggio in CGI chiamato Bao, non so ora se è un riferimento al corto Pixar ma non penso, comunque sarà qualche parola, non sono grandissimo esperto di cultura asiatica quindi non saprei dirvi, però ecco è una delle scene strane di questo film. Ma parliamo direttamente del finale perché come avevo pronosticato Jane sarebbe morta e infatti è così, mi sarei aspettato morisse in battaglia e invece muore tra le braccia di Thor per il cancro sostanzialmente, muore anche Gore essendo comunque il villain anche se non mi sarei aspettato una redenzione prima della morte, anche se la redenzione parte dall'amore, diciamo dall'amore, l'amore è una cosa bella quindi convertiti, però il fatto che lui si faccia condizionare da Thor e chieda ad eternità al posto di uccidere tutti gli dei, di far tornare la figlia e farla rimanere in vita nonostante, ecco, mi è piaciuto il fatto che il film finisce effettivamente con Thor che in certo qual modo riesce a trovare se stesso perché ora è uno zio ma in realtà è un padre con questa bambina che è la figlia di Gore sembra stranissimo già solo ieri non mi sarei mai immaginato di dire Thor adotta la figlia di Gore ecco, ma così è e proprio a fine ci viene spiegato il titolo del film Thor Love and Thunder Love and Thunder sono proprio loro due Thunder naturalmente è Thor mentre Love è la figlia di Gore l'ho davvero apprezzato come finale soprattutto per Christian Bale e il suo personaggio che ripeto non è chissà che gran villain ma almeno per oggi mi ha lasciato qualcosa piccola parte in voiceover perché durante l'editing mi sono accorto di essermi dimenticato intanto di un piccolo dettaglio del finale ovvero i bambini che sono molto importanti nel film in realtà e infatti nel finale questi bambini tra cui si trova anche il figlio di Eimdall così totalmente a caso non mi sembra di aver mai visto un figlio nel Marvel Cinematic Universe poi magari mi sbaglio appunto non vedo i film di Thor da tanto tanto tempo però tra i bambini si trovano anche i veri figli di Chris Hemsworth questo vabbè un piccolo easter egg così in generale il fatto di dare così tanta importanza ai bambini mi è piaciuto non esattamente al finale dove diventano tutti Thor più che Thor Zeus perché quello sembra più il potere di Zeus visto che è giallo e non blu come i fulmini di Thor però questo mi ha ricordato molto un Jojo Rabbit dove i bambini sono molto importanti mi fa storcere solo un po' il naso il fatto che appunto alla fine diventino tutti Thor barra Zeus infatti questa è una cosa che è nuova nell'MCU non sembra che Thor abbia sempre avuto il potere di dare i suoi poteri a qualcun altro quindi perché non ha fatto questa cosa con gli Avengers durante lo scontro finale con Thanos in Endgame due secondi per sconfiggere il Titano Pazzo ma queste sono le cose a cui non ci si deve fare caso perché comunque c'è sempre la sospensione dell'incredulità una cosa del genere non poteva mai avvenire in Endgame per diversi motivi anche per lo più scenici immaginatevi tutti tutti con quel potere tutti con i fulmini sarebbe stato un po' un casino ed è la stessa cosa un po' per Thanos perché lui ha scelto di cercare le gemme dell'infinito quando magari sa dell'esistenza persino di eternità che esprime il desiderio di chi la trova per primo ok magari non sa dell'esistenza di questo personaggio mi sembra strano visto che lo sa Gor vabbè che ha la necrospada che può sapere un po' di cose ma mi sembra strano che lo sappia Gor e non Thanos ma ripeto sono cose a cui non si deve pensare in retrospettiva però ripeto il fatto che i bambini diventino tutti dei mini Zeus Thor non mi è piaciuto tantissimo parliamo delle post credit poi concludiamo questo video che non so quanto durerà ma penso sarà abbastanza lunghetto infatti nella prima post credit scopriamo che appunto Zeus non è ancora morto perché ripeto quella saetta il Thunderbolt non è un'arma ammazza dei quindi lui è ancora vivo pur avendo un buco sul petto e fa un monologo sugli dei ma in realtà sui supereroi ed è una cosa che ho apprezzato anche perché in generale Russell Crowe è un bravo attore quindi anche in questo semplice monologo è riuscito a far trasporre qualcosa veramente questo odio verso i supereroi verso chi ha levato il posto da supereroe tutto sommato perché nel passato non è che usassero gli dei peraltro erano quelli con i poteri e Crowe riesce a far trasporre anche l'odio verso Thor tanto che nella post credit nella stessa post credit vediamo il dio il padre degli dei incaricare suo figlio Ercole di trovare Thor penso per ucciderlo comunque quindi questa credo sarà la trama di Thor 5 magari avremo appunto Love and Thunder Thor è la figlia di Gor contro Ercole sicuramente Ercole prima o poi diventerà un supereroe non si fermerà ad essere un villain o quasi villain di Thor mi piace il fatto che l'abbiano introdotto speriamo non lo rendano un personaggio idiota perché so che anche nei fumetti in realtà è abbastanza stupidotto come personaggio speriamo bene per i film anche se vista questa premessa di Thor Love and Thunder non so quanto quanta speranza ci possa essere ma passiamo alla seconda post credit perché è semplicemente quella che conclude la storyline di Jane Foster di Mighty Thor infatti la vediamo che entra nel Valhalla e in realtà è una cosa un po' strana perché Thor si contraddice nel film perché nella scena in cui Lady Sif richiama Thor appunto e il dio del tuono la ritrova senza un braccio lì morente e che spera di entrare nel Valhalla le dice no non entrerai perché sei rimasta viva dopo lo scontro quindi devi morire per forza nello scontro per entrare nel Valhalla e beh ne Jane Foster ne Odino sono morti in battaglia ed entrambi sono nel nel Valhalla non viene fatto vedere Odino nel film ma sicuramente anche lui è nel in quel posto e se Odino non viene fatto vedere viene fatto vedere Eindal ancora interpretato da Idris Elba che accoglie il personaggio di Natalie Portman appunto Jane Foster Mighty Thor alle porte del Valhalla ripeto è appunto una conclusione per il personaggio non penso che rivedremo più Jane Foster nel Marvel Cinematic Universe è ritornata appunto solo per far finire il personaggio in modo decente in confronto al finale che aveva avuto in Thor The Dark World penso sia questo l'unico motivo per cui l'abbiamo riavuto in questo quarto capitolo non credo appunto tornerà come Valkyrie come molti stanno dicendo perché si vede proprio che Natalie Portman non vuole realmente continuare questo lungo lungo percorso nel Marvel Cinematic Universe ma ragazzi fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi di Thor Love and Thunder se volete fare spoiler mi raccomando contrassegnete il vostro commento con la dicitura spoiler poi lasciate qualche spazio scrivete il vostro messaggio così da non rovinare la visione a chi ancora il film non l'ha visto vi invito come sempre a seguirmi su tutti i miei social link in descrizione Instagram, Twitter e TikTok tutto in descrizione assieme al link di Pampling codice il pensiero 4 per avere un paio di calze gratis a scelta e niente vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao ciao